buongiorno ragazze e buon mese di dicembre questo il primo dei video della christmas edition non so perché l'ho chiamata così comunque mi piaceva questa cosa molto natalizia e molto inglesi già inglesi giante inglesi zante vabbè insomma questa cosa qua insomma oggi vi faccio vedere come ho creato passo passo questo calendario dell'avvento fatto con le mie semplicissime mani anche un po sbrucciate dalla colla a caldo vi faccio vedere come l'ho fatto e come insomma siamo andati a creare il tutto spero che il video vi sia utile e che vi piaccia quello del calendario personalizzato è sempre stato un mio pallino perché io quando ero fino a quando ero piccolina insomma per me il calendario dell'avvento era un grande evento perché potevo mangiare i dolcetti tutti i giorni e soprattutto soprattutto mi dava la scansione del mese di dicembre per arrivare fino al giorno di natale in cui era il clou assoluto in cui naturalmente si ricevevo i miei regali ma soprattutto sapevo che la mia famiglia era tutta riunita sotto lo stesso tetto a festeggiare a bere a chiacchierare a giocare a carte a giocare a tombola insomma a stare tutti insieme fino a tardasera per me il natale è sempre stato questo è sempre stato famiglia non ho mai pensato neanche crescendo di passare il natale fuori come fanno in tanti che vanno a farsi le vacanze la settimana bianca no per me il natale è casa e famiglia per le vacanze insomma o altri periodi io già l'anno scorso ho fatto i video del dei calendari dell'avvento ve lo lascio magari qua da qualche parte in cui semplicemente andava a riempire i calendari che avevo già pronti per le bambine però lì vi raccontavo un po di cose insomma delle nostre tradizioni e di come abbiamo abbiamo sempre vissuto noi il natale quindi se vi va magari andate a rivederlo o a vederlo per chi non l'ha visto un'altra cosa prima di dimenticarmene siccome abbiamo passato abbondantemente 5.000 iscritti io non ho detto nulla perché un po per scaramanzia un po perché non mi sembra ancora vero io vi voglio ringraziare veramente tanto 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 tantissimo io vi mando un grande bacio siete fantastici ragazzi io non avrei mai pensato di arrivare ad avere 5.000 ormai 5.220 e passa oggi che registro il video iscritti non pensavo di poter essere ascoltata da così tante persone perché non credevo di avere così tante cose da dire e invece a quanto pare questa cosa è diventata un'esigenza è una cosa che vi piace e io sono molto molto fiera di di questi risultati insomma spero spero di avere ancora tanti tanti e tanti iscritti io adesso vi lascio semplicemente al tutorial ea tutti i passaggi per creare questi bellissimi perché secondo me ragazzi fatemelo dire sono bellissimi questi calendari dell'avvento personalizzati che ho fatto per le mie bambine ancora un bacione vi lascio il video ciao buongiorno ragazzi siamo qua perché oggi iniziano i video che riguardano il nostro magnifico natale questo periodo dell'anno che tanto ci riempie di gioia e tanto ci piace io quest'anno ho deciso visto che ho finalmente la mia macchina da cucire super favolosa sperando di non riuscire a fare una schifezza ma di fare qualcosa di veramente molto carino per le mie bambine ho deciso di creare dei calendari dell'avvento personalizzati per loro fino all'anno scorso aspettate che precipitato fino all'anno scorso sempre utilizzato questi che sono quelli che noi vendiamo già pronti praticamente che sono in realtà troppo piccolini perché hanno per le mie esigenze delle taschine veramente minuscole in cui ci sta poco e niente quindi una caramellina o un mini cioccolatino però siccome io il calendario dell'avvento lo voglio rendere un pochino più dinamico non mettere sempre e solo la stessa cosa voglio farne uno intanto personalizzato con i nomi delle bambine grazie alla mia silhouette e poi voglio voglio farlo insomma che sia con le tasche più grandi modo da poterci mettere anche delle cose diverse dalla solita caramella o dal solito cioccolatino quindi lo corrente io ho comprato del centro ho comprato del centro di quello spesso 3 mm quello che rimane quasi rigido ne ho preso un bel pezzo adesso da questo riuscirò a fare in realtà diverse cose per natale quindi i calendari avranno un'altezza di 72 cm però poi dovremo andare a inglobare le grucce che saranno praticamente l'appendino per il nostro per il nostro calendario quindi alla fine non so esattamente di quanti centimetri verrà però sicuramente sarà più grande di questo che è veramente una roba minuscola l'altezza è quella che vedete qua stesa adesso prenderò bene le misure per tagliare quindi il tetro 3 mm ci serve una brucia di legno queste io in realtà le avevo prese tempo addietro e sono ricoperte sono sono di legno sotto vedete sono di legno sono ricoperte con la gomma piume con del tessuto avranno dei nastrini ma poco importa insomma per quello che serve a noi va bene una semplice brucia di legno quindi la base sarà rossa di tutti e due i calendari sia di quello di rebecca che di quello di matilde e poi invece le taschine le andrò a fare a matilde con il pannolenci quello morbido quello leggero da un millimetro a matilde verde oddio e arabecca invece le farò pan naturalmente poi sulle taschine andrò a creare i numeretti e anche questi li farò sempre con il con il feltro non so se riuscirò a utilizzare questo rosso perché è molto grossa passare nella silhouette non lo so faccio una prova vediamo se riesco altrimenti utilizzerò sempre questo fine andrò a contrasto quindi sul panno farò i numeretti verdi e sul verde farò i numeretti colpe i numeretti con urbana niente non ci serve altra attrezzatura se non quella proprio da taglio e cucito quindi le forbici il filo la macchina da cucina naturalmente si potrebbe fare anche a mano in realtà certo ci vorrà sicuramente più tempo è già così non essendo io molto brava nel cucito non ho idea di quanto ci metterò comunque adesso iniziamo per avere un taglio preciso che so già che con le forbici non riuscirei mai ad avere utilizzo un taglio preciso che so già che con le forbici non riuscirei mai ad avere la mia base da taglio quella gommosa chiuso per fare le partecipazioni e tante altre cose il righello e il taglierino grazie a tutti 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 Un mace Grazie a tutti 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 Sono sono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti